Cari amici, buona domenica! Quest'oggi Gesù ci racconta ancora una volta una parabola. E' una parabola nella quale ci aiuta a comprendere che ciascuno di noi è chiamato nella comunità credente, nella storia degli uomini, dentro le vicende e il vissuto di ogni giorno, a rispondere alla sua chiamata. Ciascuno di noi deve dire al Signore la sua disponibilità. C'è questo padrone, lo sentiremo nella parabola, che esce a tutte le ore del giorno in vita, esce per ben cinque volte. Uno potrebbe dire, ma perché deve andare a chiamare a lavorare nel pomeriggio, quando ormai la giornata volge alla sua conclusione? Ci potrebbero essere tante stranezze che ci portano a porre delle domande a questo testo. Noi lo ascoltiamo. Poi ci soffermeremo su quello che il Signore ha da dirci, ha da comunicarci, per essere capaci di rispondere alla sua chiamata. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli questa parabola. Il Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa, che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro, andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro, perché venne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero, perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro, andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiami i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Ne a ritirarlo però mormoravano contro il padrone, dicendo, questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse, amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. La parabola si conclude con tre domande che il padrone pone dinanzi all'atteggiamento sindacale dei servi, soprattutto evidentemente dei servi della prima ora. Noi siamo fatti così. A volte un certo sindacalismo vige anche dentro Santa Madre Chiesa. La prima domanda con cui Gesù risponde, con cui, scusate, il padrone risponde alle critiche che gli sono rivolte è proprio questa. Non hai forse concordato con me per un denaro? Quindi, se non altro, il Signore ci ricorda una cosa molto semplice, che come sue creature abbiamo tutti la medesima dignità. Non è che chi è venuto prima ha un qualche vantaggio. Non hai concordato con me per un denaro? E allora prendi il tuo e vattene. È inutile che vieni da me fare il sindacalista. Direi che questa prima domanda che il padrone pone scopre un nerbo molto doloroso della nostra vita di uomini e di donne. Perché? Perché diventa il nerbo che ci fa capire come noi siamo poco attenti alla dimensione creaturale. Ci sarebbe da riflettere a lungo su questo. Mi pare uno dei problemi o delle questioni più evidenti nella vita di fede. Noi non crediamo più, non ci fidiamo più del fatto che è il Signore ad averci creato, è il Signore che ha messo a nostra disposizione il suo giardino e noi continuiamo nei suoi confronti con un atteggiamento sindacale. non intendo dire con questo che chi lavora nel sindacato sia fuori luogo, per carità di Dio, mi si intenda bene. La seconda domanda che il padrone rivolge è molto semplice. Ma io non posso fare delle mie cose quello che voglio. Come se il Signore ci dicesse, scusa, va bene che ti lamenti, va bene che te la prendi con l'universo mondo, va bene che ce l'hai su con tutti tutto quello che vuoi, però infine renditi conto che quello che tu hai come quello che hanno gli altri è un dono gratuito che vi ho fatto. E io le mie cose le voglio donare, le voglio spendere gratuitamente, le voglio regalare. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Anche qui abbiamo bisogno di capire che quello che il Signore mette a nostra disposizione siamo chiamati a utilizzarlo con sapienza, a usare di quello che Lui ci dona, ma non ad abusare dei Suoi doni o di quello che sia mette a nostra disposizione. Abbiamo poi la terza domanda, quella che va più a fondo nella nostra vita, nella nostra vicenda. Eppure tu sei invidioso perché io sono buono? ritorniamo a quello che dicevamo un poco nella parabola domenica scorsa. La nostra fatica è quella di arrivare ad amare come ama il Signore. E tutto sommato ci dà fastidio che Lui sia buono. Vorremmo che Lui fosse più giustizialista, più secondo la nostra prospettiva, più secondo il nostro calcio, di bene, più secondo le nostre attese, più rispondente alla nostra suscettibilità ai nostri bisogni. E invece il Signore ci dice sempre guarda che io sono buono, cerca di diventare buono come lo sono io. Perché allora ti accorgerai che in tutto quello che ti ho dato c'è già una giustizia che è misericordia. Ti accorgerai che io non vi sto trattando in un modo ingiusto, in un modo che porta, diciamo così, allo sfruttamento di quello che voi siete. Vi sto dando tutto quello che è necessario per vivere ma sta a voi utilizzarlo e farlo fruttificare. E soprattutto il Signore ci dice impara ad essere buono come io sono buono. Un augurio a tutti voi. Ci affidiamo nelle prossime domeniche e alla maestria, alle parole, all'insegnamento di Don Gabriele per essere guidati nel cogliere la bellezza del Vangelo di ogni domenica. Buona domenica, buon cammino a tutti voi. Buona domenica, buona domenica. Buona domenica, buona domenica.